E' fantastico, dunque quello sarebbe il grande Sengro. Esprimi il tuo desiderio e si augurò qualunque tua richiesta. Ti prego, libera l'eroe Tafion del Karyon che lo tiene prigioniero. Non c'è niente di più facile. Ah, forse sarò precipitosa, ma mi sembra che non sia cambiato nulla. Ah, che c'è? Guarda, sta girando. Allora era tutto vero. Bella melodia, non trovi? Si, ma nasconde un'immensa tristezza. Sta uscendo! Eccolo! Ha uno spirito combattivo. Incredibile! Ha uno spirito. Eccolo! 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 Tutto quello che ci ha raccontato il vecchio corrispondeva a realtà Fantastico Che bel ragazzo Stai indietro Ah, che carattere Sei stato tu a liberarmi, vecchio Non deve essere stato facile restare in un posto così angusto per mille anni Ti sei intromesso, voglio tornare lì dentro È impossibile, il tuo carione è andato distrutto, disintegrato Su, andiamo, basta litigare, adesso sei libero, no? Perché non cerchi di andare d'accordo con gli altri? State lontani da me Avete commesso un imperdonabile errore a richiamarmi E per quale motivo? Sento che diventerà il mio idolo Non dire sciocchezze Quale idolo? Lo abbiamo liberato e non ci ha detto neanche grazie Che maleducato Ehi, aspettami Ehi, aspettami Tornate subito qui Tu che ne pensi? Secondo me qualcosa non quadra Ehi, aspettami